I numeri dei contagi lo dimostrano e gli atteggiamenti lo confermano. Il Salento è un territorio virtuoso e rispettosissimo di quelle che sono le norme sanitarie imposte dal governo. Abbiamo fatto un giro per le vie del centro nel primo sabato sera da DPCM. I locali erano pieri e fuori dai negozi c'erano le file. Segno che il commercio fino a questo punto non ha risentito della prima stretta imposta dal premier Conte per tenere sotto controllo la situazione sanitaria che rischia di riempire nuovamente gli ospedali. Andando da Piazza Mazzini in direzione Piazza Santo Ronzo attraversando la centralissima via Trinchese era impossibile trovare qualcuno senza mascherina. Il virus sarà pure nell'area ma non ha modo di colpire. Tutti prodetti con i vigili urbani e la polizia in borghese per le vie del centro che si limitava ad osservare in maniera soddisfatta il grande rispetto dei cittadini leccesi e di chi ha affollato le vie del centro. Nei locali del Borgo Antico trovare un tavolo era difficile. I ristoratori, a chi ha prenotato, ha chiesto di cambiare leggermente le proprie abitudini non alle prenotazioni alle 21 ma possibilmente alle 20 e 30. Un piccolo anticipo per permettere di poter effettuare il secondo turno e chiudere regolarmente alle 24. In questo momento basta adattarsi per vivere sereni, proteggersi dal virus e permettere a tutti di continuare a lavorare e questo l'obiettivo lo dovrebbero capire però anche i più giovani che sono sembrati i meno rispettosi. In una delle piazze tipiche del ritrovo giovanile la mascherina era un'option, una condizione sulla quale le forze dell'ordine devono sorvegliare con grande attenzione ma anche le famiglie che devono essere brave a far capire l'importanza di questo piccolo accessorio per la salute dei loro figli ma anche di tutti gli altri.